dolciose e cari dolciosi bentornati o benvenuti in questo nuovo video e sul mio canale io sono sandy la belle e sono in compagnia di una splendida collezione che io ho lasciato così alle spalle per incuriosirvi un po e questa splendida collezione o meglio una parte di questa collezione vintage ovviamente che si rifà al mondo del al mondo del vintage vintage ovviamente che si rifà al mondo del vintage sto parlando di miss candy floss ebbene sì chi mi segue lo sa ormai che la mia marca mio brand preferito i vestiti che si rifanno appunto al mondo del retro vuoi per la qualità vuoi per la bellezza anche questo qui ecco ad esempio un modello proprio di miss candy floss bene allora oggi io vi vorrei parlare della collezione e lega di miss candy floss ecco qui vedete qui c'è questo piccolo piano ovviamente voi vedrete al contrario vedete questi sono soltanto alcuni dei capi della collezione toujours elegante di miss candy floss autunno inverno 2021 allora sono arrivate delle nuove cosine sono qua dietro delle altre ne prenderò vi piace il mio basco così color melange vi dico la verità l'ho comprata l'ovs perché la fortuna del basco che è un cappello retro ma si trova anche insomma non solo sui siti vintage o non sono i negozi retro ma anche così everywhere e quindi l'ho presa l'ovs viene anche glitter non so se riuscite a vederli benissimo allora scusate per questa solita confusione perché come sapete ormai ecco arriva in queste buste qui o meglio nella busta esterna e poi dentro a queste buste qui ma c'è poco da vedere poco carino quindi cambia poco certamente avrei potuto sistemarlo meglio ma noi facciamo finta di niente allora è una busta di cui volevo far finta via sì allora cominciamo vi volevo mostrare innanzitutto una giacca la giacca di miss candy floss vedete come al solito arriva sempre con il bottoncino di ricambio è verde smeraldo con i risvolti tartan che come vedete si trovano anche sulla tasca e anche sul retro della giacca la giacca qui sulla così sulla parte della spalla ha delle leggere arricciature la manica invece lunga e liscia così come l'amo io onestamente soprattutto lunga perché inverno fa freschino però questa ecco va usata come blazer cioè al posto diciamo della non so forse sono troppo bassa al posto quindi diciamo di un giacché di un golfino ecco ok per rifinire un outfit guardate un po questi sono i bottoncini anch'essi tartan il collo è questo ok allora la giacca in realtà sta l'ho presa a parte che si può interscambiare perché il bello di questo tipo di giacca che come vedete sono stretch si possono interscambiare quindi ho pensato anche sui miei pantaloni verdi su una buona nera su una buona verde su una buona bordeaux perché qui ci sono anche dei colori sono bordeaux turchese eccetera eccetera va bene vanno le ciance vi volevo mostrare il motivo per cui l'ho presa in realtà prevalentemente scusate questo qui ecco vedete questo meraviglioso abito tartan che come vedete è uguale no alla giacca perché proprio un completo e con questo altrettanto meraviglioso fiocco che io adoro tra l'altro è estraibile ecco si tira così si può sfilare vedete qui c'è un angolino di stoffa non sarebbe chiamata una tasca diciamo diciamo così ecco vedete c'è questo fiocco che poi estraibile ma io non ho nessuna intenzione di estrarlo la gonna è ampia è sempre questo meraviglioso tartan che purtroppo in video non rende bene l'idea comunque i colori sono sfondo nero poi abbiamo le righe che sono verde acqua diciamo tiffany viola senape rosa antico insomma è uno splendore la zip è laterale non ricordo ora ecco quella qui vedete zippe laterale sul fianco quindi quindi su dietro rimane liscio come piace a me e questo è il collo vedete poi con la giacca vi farò vedere che la giacca realtà si può indossare chiudere anche e lasciare fuori il fiocco che si intraveda è una cosa sfiziosetta il collo ecco è fatto così poi e questo è l'abitino poi io vi volevo parlare di una cosa outfit per il natale per questo natale qui perché i ragazzi miei bisogna portarsi avanti con i lavori non aspettate all'ultimo momento che poi arriva il natale direte e che cosa indosso non ho niente nell'armadio non ho niente no bisogna cominciare prima a pensarci prima quindi la sandy si è adoperata per procurarsi il il outfit perfetto per il natale allora in tutti gli anni passati ho optato per il verde prevalentemente che ricordatevi che è anch'esso un colore natalizio quindi il verde soprattutto il verde scuro comunque io sto parlando del mondo del vintage il rosso che è un evergreen e poi però diciamo il bianco anche ma diciamo che quest'anno diciamo anzi o meglio negli ultimi anni però ho fatto la comparsa questo colore qui che è un colore rosso vino borgogna chiamatelo come volete e anch'esso si può adoperare comunque per il natale una versione natalizia un pochino più raffinata e quindi quest'anno deciso di fare questa cosa qua e di acquistare appunto un capo anzi due capi sempre della collezione di toujours elegante c'è sempre ogni giorno elegante miss candy floss vedete anche in questo caso abbiamo il bottoncino ecco questa è la giacca scusate io l'ho aperta ma tanto la vedrete poi indossata questa è quella giacca con questi magnifici polsini vedete che sono comunque super glitterati mi dispiace per il colore che qui in camera sembra più un marrone ma in realtà un bordeaux abbastanza scuro ecco il tessuto sembra un po di velluto e il collo è fatto alla stessa maniera dei polsini e poi sul davanti abbiamo abbiamo anche le tasche sempre glitterate potete vedere qui e poi abbiamo appunto i bottoncini che anch'essi sono bordeaux ok poi sotto la giacca c'è il suo completo che è appunto la gonna una gonna eccola qui vedete con queste tasche con un fiocchettino vi ricordo appunto che il camera il colore in camera comunque rosso sempre borgogna è uguale alla giacca e niente e poi alla alla zip sul retro vedete e questa è la gonna poi aspettate un attimo eccomi qui se avete seguito le mie storie su instagram oppure anche semplicemente seguito il mio canale youtube saprete che questa delizia più meravigliosa a cui ho dedicato un intero video di miranda's choice appunto che questa bottega tedesca dove due donne realizzano a mano queste meraviglie e questo sarebbe praticamente un cappellino ecco da indossare vedete è una stella di natale da indossare poi qui dentro c'è tutto il filo diciamo di metallo no e quindi si possono sistemare chiudere aprire come volete le foglie ok perché queste realtà sono foglie cioè non so se lo sapete ma i fiori quelli chiamiamo fiori no della stella di natale altro non sono che delle foglie che semplicemente si pigmentano di un colore diverso dal resto delle foglie quindi diventano rosse ma in realtà sono foglie comunque va bene e quindi quando stato quando stato diciamo così oppure anche sul retro e questo appunto farà parte dell'outfit eccomi qui dicevo resistito fino adesso questo regalo che vi sto per mostrare l'ho ricevuto un paio di giorni fa è una cosa che si mangia ed è una cosa che io amo tanto ovvero ovvero il cioccoletto e quindi qui si tratta di una cioccolateria antica ovviamente made in italy no vi vorrei mostrare la bellezza di questa scatolina guardate un po che una scatola appunto si fa al mondo del vintage la persona che me l'ha regalato grazie e appunto mi ha detto ti ho pensata e quindi dici sì la cioccolata è buona l'ho assaggiata ma la scatola ricordate che si tratta di questa scatola che mi ha parlato di una scatola che mi ha detto ti ho parlato di ricordatevi sempre che prendersi cura di se stesse parte anche dall'abbigliamento vedete sto mostrando adesso che il basco si abbina benissimo con le righe del tartan come vi avevo detto la giacca può essere chiusa e lasciando fuori questo delizioso fiocchettino che devo dire che davvero sfiziosetto adesso vi sto mostrando sfidiamo la giacca che è molto confortevole molto morbida vi faccio vedere così come è il lapitino a maniche corte ovviamente potete indossarci sopra appunto questa giacca che vi ho mostrato oppure anche un golfino o un'altra cosa che avete e che possa starci bene e mi piace moltissimo questo abito come al solito miss candy floss non si smettisce mai nella qualità e adesso passiamo al prossimo outfit quello appunto natalizio come vedete la gonna è un po flattering si segue i movimenti del corpo è comunque un semi swing io ho abbinato vi sto mostrando i polsini salutandovi vedete sono davvero molto graziosi mi piacciono molto questi dettagli al di sotto appunto ho indossato la camicia maniche lunghe di the seamstress of bloomsbury mi piace molto anche come sta sul retro questa giacca e è molto piacevole il natale nell'aria ho tante cose da mostrarvi che stanno per arrivare qui su questo canale iscrivetevi al canale seguitemi su instagram chiocciolina sandianne scarla bell alla prossima